La corsia mancina della Roma, c'è un po' di affollamento da quella parte, geniale il passaggio sulla destra per Florenzi Totti! Francesco Totti, quando gioca contro il Real Madrid, riesce sempre a segnare un gol, 1-0. Meravigliosa azione della Roma, Nainggolan, perché Ità, il velo proprio di Francesco Totti, che dà in là questa azione, poi Florenzi la mette dietro per Totti, che di prima con il destro batte Diego Lopez e porta in vantaggio la squadra di Garcia contro il Real Madrid al 50esimo minuto. E' questa la Roma che sogna Garcia e...